ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi vi propongo un video haul per per quanto riguarda i saldi ebbene sì ho fatto shopping e quindi sono andata in vari negozi e ho acquistato alcune cose i capelli li tengo così perché se tolgo la molletta la franguatta diventa tipo una leoness ma io no 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 comunque li tengo così perché mi viene più comodo allora ho fatto vari acquisti e siccome questo video già l'avevo registrato ma quando la mia migliore amica l'ha tolto dalla schedina non è più diciamo c'era la parte finale ma la prima parte non si era vista non si sa che cosa è successo quindi la schedina è bloccata non lo so e quindi lo sto rifacendo nel frattempo avevo fatto altro shopping quindi gliel'ho messo allora le cose che vi faccio vedere sono state acquistate da piazza italia alcuni questi ve li ho fatti vedere però ovviamente col fatto che non si era visto niente ve li faccio vedere allora la mia passione per quanto riguarda i pantaloncini è sfociata in pantaloncini anche per uscire bene sì mi sono fatta un esame psicologico e che posso uscire con i pantaloncini anche se ho la calza e quindi amen ho comprato vari pantaloncini tra cui questi che sono bellissimi e molto possono essere diciamo sia eleganti che sportivi casual il modellino in questione è questo ed è un pantaloncino semplicissimo io lo vedo troppo sparaflesciato invece è un blu tipo un blu navi ed è molto molto bello questo diciamo con i pantaloncini anche se sono leggermente larghi ma a me piace proprio il modello non mi piace proprio quel modello troppo aderente no questi io l'ho presi 12 euro come scritto qui e ho preso la xl che è quella che diciamo mi sta bene mi piace perché fa a queste pinze non so se si vede come stavo prendendo i capelli a queste pinze e se voi li prendete una misura in meno nel senso la vostra misura vi fa quel difetto che apre la pinza tipo la piegatura la apre e non mi piace molto quindi ho preferito questa misura mi piace tantissimo nella parte dietro è così semplice invece nella parte davanti abbiamo sia le tasche che questa catenella diciamo per fare un effetto un po più particolare e questa mi piace mi piacciono indossarle sia con delle magliette o delle bluse molto particolari e di questo modello ho preso gli altri due colori che mi piacevano tantissimo perché quando trovo una cosa se mi trovo comoda con quella cosa preferisco anche prendere altri altri colori e l'ho preso questo blu scuro proprio molto molto bello sempre blu scuro non so se ve l'ho detto ha il bottone e la cerniera che sono molto molto utili e quindi l'ho preso questo blu scuro è il colore che mi piace tantissimo perché ho anche le scarpe da ginnastica quindi la voglio mettere proprio con le scarpe da ginnastica queste cioè ho anche le scarpe eleganti rosa cipria però mi piacciono anche con le scarpe da ginnastica ed è questo rosa cipria bellissimo ed ho intenzione di c'è un pelo ed ho intenzione di fare un make up proprio per il rosa cipria comunque sono molto molto belli io l'ho preso scontati ma devo dire che mi piacciono proprio come vestibilità e tutto molto molto comodi poi sono stata da zuiki da zuiki ho preso altre cose ho preso altre cose tra cui il pantaloncino che già ho indossato perché il video come vi ho detto l'ho già fatto allora questi sono i pantaloncini mi piacciono tantissimo non sono corti perché non l'avrei mai comprato i corti mi stanno molto bene poi l'ho messo con un paio di scarpe che la mia migliore amica mi ha tartassato di comprarle e quindi le ho comprate comunque il pantaloncino è fatto così il colore mi piace tantissimo ha queste svoltine già cucite cioè la forma è già fatta da queste cose da queste cuciture la parte dietro è così semplice io ero indecisa tra prendere questo e quello a forma di caramella però quella forma di caramella mi faceva un difetto nella parte davanti e quindi non l'ho voluto non le ho voluti prendere questi invece mi piacciono di più perché li posso stringere visto che sono a dieta ho questa cosa questi di zuiki ho preso una 46 mi piacciono mi piacciono proprio come vestibilità e tutto mi piacciono tantissimo l'altro che vi faccio vedere che mi piace tanto però ancora non l'ho indossato è questo qui molto molto carino veramente come vestibilità ottima invece del bottone a questa chiusura così con la cerniera e anche la cinturina come la vedete qui in vita mi piace la vestibilità di questo pantaloncino perché è un po' più lungo ovviamente del pantaloncino di jeans e mi piace la vestibilità perché proprio è come se diciamo l'avessero fatto apposta per me quindi mi piace mi piace come mi sta anche questo ha le tasche la cerniera e nella parte di dietro è semplicissimo così e anche di questo no di questo ho preso una 48 poi l'ultimo pantaloncino che vi faccio vedere sempre per quanto riguarda zuiki è questo colore perché avevo preso dei sandali che vi farò vedere proprio alla fine di questo video proprio perché ho a metà vediamo perché le avevo prese proprio apposta avevo preso il pantaloncino che è questo qui a forma di caramella questa è la questa forma di caramella mi piace perché piccola invece l'altra non aveva il bottone e mi faceva difetto e quindi non mi è piaciuta comunque questa mi piace come forma vedete il pantaloncino è uguale a quello di jeans la vestibilità pure è molto molto comodo veramente mi piace l'effetto e tutto questo io ho preso una 44 vedete le misure sono molto diverse da loro perché io ad esempio ho preso le mie misure tipo la 48 e sono andata nel camerino meno male ovviamente ero in compagnia della mia migliore amica meno male che c'era lei perché l'ho mandata a prendere le altre misure perché sinceramente erano o troppo larghe o strette in base poi al modello e quindi di questo dovete stare attente perché non vi saprei proprio consigliare la misura esatta questo ad esempio l'ho preso la misura più piccola perché aveva anche l'elastico qui in vita quindi prendendolo più grande ti faceva il difetto e non mi piace cioè io preferisco dei pantaloni più diciamo eleganti che sono più larghi questi tipo effetto jeans mi piace proprio l'effetto jeans anche sul fondo schiena e questi venivano 15 euro questi qua e questo per quanto riguarda zuiki e piazza italia per quanto riguarda i pantaloncini poi sono stata ho altri sacchetti perché si sono rotti e tutto vediamo quali scontrini si sono stata da alfot questo che cos'è sono stata da alfot e ho preso alcune magliette ovviamente alcune già le avevo anche buttate e quindi ho fatto scorta di magliettine le ho prese alcune xl altre se non mi sbaglio m comunque questo è costato 9 euro e 99 quindi 10 euro il modellino è semplicissimo questo qui con snoopy mi piace il fatto che sia con la manichetta così e che non sia troppo aderente perché non so voi ma credetevi quest'anno le cose aderenti non riuscivo a metterle perché faceva troppo troppo caldo controlliamo che si sta registrando perché l'altra volta non registrava nemmeno quindi anche il computer si è ribellato comunque la magliettina è così di snoopy è semplicissima bianca con lo snoopy soltanto in prima linea nella parte dietro è così semplice senza disegno e senza niente poi per la fissazione delle magliettine bianche scusatemi ma è così ho preso ah qua è la magliettina di bersky infatti c'era il sacchetto comunque ho preso la ma questa sempre no questa di alcott ho fatto un mix di sacchetti e li ho messi tutti in uno e quindi non so dove ho preso uno e dove ho preso l'altro comunque questo è sempre alcott sempre 9,99 euro e sempre una xl ed è questo qui con dumbo mi piaceva tantissimo e questo ad esempio si può mettere anche con i pantalancini quelli rosa cipria perché hanno del rosa io le magliettine li metto anche così con delle cose molto più elegante la manichetta è sempre uguale a me piace tantissimo il cotone delle magliettine di alcott e anche alcune di terranova perché veramente hanno un tessuto ottimo li riesco a stirare tranquillamente lavaggi dopo lavaggi perché ovviamente come sapete tutti le magliettine sono una messa e una lavata così si dice anche in siciliano l'ultima che vi faccio vedere sempre per quanto riguarda alcott è questa qui ed è di Snoopy mi piace tanto questa ha la manichetta tagliata ed è molto molto carina è gialla e io ho dei pantaloni di questo colore giallo è gialla e bianca ho preso una M perché queste qui sono quelle oversize quindi mi piacciono sì le magliettine larghe ma non troppo perché poi sembri diciamo più grande, più grossa e quindi ho preso questo vedete la larghezza è sempre uguale mi piace tantissimo perché è tutta piena 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 di disegni anche qui dietro, cioè è tutta il tessuto è ottimo come sempre invece per quanto riguarda Bershka ho preso una M a 15,99 euro ho speso un bel po' per questa sto scherzando ma c'è Stitch con la chitarra io adoro Stitch quindi l'ho voluto prendere mi è piaciuta tantissimo guardate Stitch con la chitarra molto molto carina e questo è anche oversize e nella parte di dietro è sempre Stitch con la parte di dietro di Stitch ovviamente mi piace tantissimo e l'ho voluta prendere questa non l'ho presa a 15 euro infatti no, non è stata a 15 euro no cioè, allora costava ah giusto allora costava 15,99 euro io l'ho pagata a 9,99 euro perché è scritto qua vediamo se riusciamo a farvelo vedere eh, ora adesso ci sono io stampata dietro vedete, 9,99 euro comunque sono ottime come cotone e tutto a me piacciono tantissimo mi trovo benissimo con questi tipi di magliette allora, Zui che ho fatto vedere Piazza Italia pure cosa dovevo far vedere più? ah, le scarpe nel video che vedete dove vi faccio vedere i pantaloncini che non lo so se lo metto prima o dopo o durante sono stata da Bata e infatti ci andrò a in questi giorni per cambiare proprio le scarpe avevo preso le scarpe quelle arancione per abbinarle a pantaloncini questi qua che mi piacciono tantissimo ho preso anche l'altro colore perché le scarpe mi piacevano tantissimo sono entrata mi è piaciuto anche questo colore quindi l'ho voluto prendere l'unica cosa che devo cambiare perché questa è io ho preso il 40 invece in quel video io avevo preso il 39 perché la ragazza mi aveva detto che era meglio prendere un numero in meno perché calzavano meglio eccetera eccetera invece no mi stringe tantissimo e non riesco a stare nemmeno dove c'è la calza e quindi cosa ho fatto? sono andata e ho preso questo modello che è molto più diciamo il colore è diverso quello è arancione questo invece è un tortora sì un tortora chiaro un beige chiaro mi piace tantissimo il modello e quindi l'ho voluto prendere anche di questo colore questo colore costava di più dell'altro non so perché quello costava 20 e questo costava sulle 30 cioè non capivo il motivo però erano così comunque è lo stesso modello identico dell'altro ma mi piace tantissimo quindi ovviamente poi rimbosserò il tutto ed ho preso proprio il 40 proprio per questo motivo la ragazza mi aveva detto che poi questo diventava più morbido e tutto invece quest'altra ragazza del negozio mi ha detto no 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 è meglio prendere la propria misura quindi adesso siccome il video l'ho fatto in questione di pochissimi giorni li andrò a cambiare perché devo prendere alcune cose per i ragazzi e soprattutto mi devo cambiare queste scappe perché io ho intenzione di indossarle con i pantaloncini e quindi voglio mettere giuste va la misura giusta poi sono state in un altro negozio aspettate che vi faccio vedere il sacchetto perché di questo ho ancora il sacchetto ed è questo qui sneakers che era vicino a Pandora chi va al centro Sicilia lo trova di fronte a Pandora se mi sbaglio si di fronte a Pandora comunque ho preso delle scarpe perché ho preso queste scarpe perché si mi piace la scarpa col tacco diciamo se devi fare delle uscite più particolari mi piace la scarpa col tacco ma mi piace anche la scarpa bassa perché devo essere anche un po' comoda dipende se devo fare anche strada abbastanza lunghe e cosa succede che io di norma non posso portare le scarpe tipo basse come le ballerine ma devo avere sempre un piccolo tacchetto di sotto per sollevare diciamo il tallone così mi ha spiegato il mio dottore e quindi così è e quindi ho preso due due paia di scarpe uno l'ho scelto io e uno mi ha istigato la mia migliore amica quindi è stata lei per spiegarmi comunque le scarpe sono di questa marca Boss sono delle sneakers no delle skee-chers se non mi sbaglio si dice skee-chers e sono in memory form comunque la comodità è ottima perché un paio lo utilizzate con i pantaloncini di jeans il prezzo non me lo ricordo in caso ve lo metterò perché non me ricordo se ho lo ristacchetto sì 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 qua aspettate ve lo faccio vedere allora ci sono una marea di scontrini sì qua allora queste sono queste che vi faccio vedere sono costate 22 euro e 50 invece quelle che scelte la mia migliore amica sono costate 27 euro e 50 i prezzi non sono esagerati è veramente la comodità è ottima le scarpe in questione sono queste non a tutti sicuramente piaceranno ma a me piacciono e soprattutto sono comode per quanto mi riguarda allora vi tolgo tutto allora il modellino è così questa la posso toccare perché non l'ho utilizzata il modellino è così con l'intreccio davanti e la suola è tipo camoscio scamosciato una cosa del genere e poi ha il cinturino il cinturino qui che ferma alla caviglia e il piccolo tacchetto che vi ho detto poco fa questo per me è la salvezza questa è l'unica cosa che mi salva in tutto e per tutto perché se no non riuscirei a camminare mi piace mi piace veramente tanto io questo tipo di scarpa ve li consiglio se avete la stessa diciamo problematica mia per quanto riguarda il camminare la comodità e tutto ve li faccio vedere così ovviamente sono molto molto carini con i jeans con i pantaloncini e jeans io li ho messi anche con i pantaloncini di H&M che ho comprato che sono più diciamo sportivi ma io li ho utilizzati anche con questi perché essendo fatti tipo di jeans li potete utilizzare con tutto sono molto molto comodi veramente perché ho utilizzato l'altra scarpa che adesso vi faccio vedere dove la butto la scarpa è quella che vi faccio vedere che ho acquistato è questa qua ed è questo modellino ha la cerniera qui dietro la diciamo il doppio cinturino e poi ha la fibbia qui davanti con l'intreccio qui la stessa cosa sono tipo scamosciate non so se si vede sono tipo scamosciate come le altre e il tacchetto è uguale allora io le ho messe queste scarpe alle sei di pomeriggio sono ritornata alle cinque di mattina quel giorno e vi posso assicurare che non avevo mal di piedi non mi faceva male tipo l'intreccio qua niente assolutamente delle scarpe così comode mai provate cioè io solo con le scarpe da ginnastica mi trovo così bene invece devo dire che queste scarpe mi sono piaciute tantissimo c'era anche un altro colore sul beige come le scarpe col tacco che vi ho fatto vedere poco fa ma non c'era la mia misura perché vi dico questo perché queste scarpe sono il 39 io mi sono fatta dare il 40 perché di norma porto il 40 ma assolutamente assolutamente non sono riuscita a indossarle perché c'era un dito così che era aumentato una cosa incredibile infatti io gli ho detto ma io porto il 40 mi fa no questo tipo di scarpa dice calza scusate questo tipo di scarpa calza molto più grande e quindi ho preso queste l'ultimo pantaloncino per quanto riguarda Piazza Italia è questo qui sempre tipo stile jeans mi piace tantissimo è questo blu bello elettrico molto molto bello come colore a 10 euro l'ho preso ho preso la 50 di questo perché vestiva piccolo sinceramente non mi piaceva il fatto di essere strimentita là dentro e quindi ho preso questa mi piace tantissimo perché è tagliato a vivo alle tasche ed è simile a jeans ed è molto molto bello mi è piaciuto tanto poi allora ho preso le scarpe e poi ho preso un completino ve lo faccio vedere allora da Bata ho preso queste scarpe sono delle scarpe semplicissime in stile con le dipine di fuori e le scarpe in questione sono queste qua allora mi piacciono tantissimo le ho prese sì da Bata l'ho detto mi piace tantissimo volevo abbinarli hai fatto una cina e jeans che sono molto molto carini mi piace tantissimo ho preso il 39 perché la ragazza ha detto che un pochettino questi qui si aprono un pochettino e scivola il piede perché questo diciamo tessuto che c'è nella scarpa scivola e quindi io di norma calzo un 40 ma lei mi ha consigliato il 39 il modellino è questo ed è semplicissimo ma mi piaceva tantissimo perché era molto carino poi farò le unghie anche di questo colore e vedrò l'abbinamento mi piace tantissimo ditemi cosa ne pensate che vi piacciono queste scarpe così a me tantissimo li vedo un po' alte come tacco e tutto però li volevo prendere sinceramente per cambiare anche per non stare sempre con le scarpe da ginnastica che uso sempre l'ultima cosa che vi faccio vedere per quanto riguarda questo haul è un completo che ho preso è un completo che ho preso da Berska io ci sono entrata e stavo guardando per alcune camicie che avevo visto tutte con tipo le camicie è un po' senza voluminosa invece la mia amica mi fa guarda che c'è l'abbio mi giro tipo tipo una paella e ho visto quei no li voglio e quindi li ho presi e ho preso un completo e ho preso un completo da Berska e ho preso questo qua tada bellissima la maglietta che è così ed è oversize però io ho preso una M perché la L era troppo grande a 18 euro 17,99 la maglietta in posizione è così molto molto bella con questo disegno stupendo bellissima e nella parte dietro è così bellissima proprio con la scritta è tipo gommosa cioè stupenda veramente stupenda e Stefania passione i pantaloncini ho preso i pantaloncini abbinati ed è bellissima cioè guardate qua i pantaloncini sono stupendi anche di questo ho preso una M perché la L era troppo grande giusto ho preso la L la M sì sì la M perché di sotto la L era troppo grande e sono molto molto belli proprio il modello è uguale alla paglietta infatti è un completo ed è bellissimo mi strapiace tantissimo infatti non vedo l'ora di utilizzarlo questi li ho messi di lato non li ho toccati vero giuro infatti vedete l'epichetta perché io poi li devo lavare e indossarli non vedo assolutamente l'ora che bello mamma mia c'è più buona nonne mi piacciono tantissimo ditemi se vi piacciono anche a voi i modellini tipo anche questi qui tutti disegnati so che Fabiana è pazza di questi manga quindi ha la passione ditemi cosa ne pensate dei pantaloncini li mettete voi i pantaloncini o avete un'età e non volete mettere i pantaloncini no perché sono un po' metto quello che mi piace però sempre moderato e sempre nella giusta maniera per quanto riguarda questo video è tutto io vi saluto spero ovviamente che i miei acquisti mi siano piaciuti mettete il pollice in su per farmi capire che i miei acquisti vi siano veri io per quanto riguarda questo video è tutto vi mando un moltissimo bacio come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao